Buongiorno da iCasaGreen, il padiglione della città sostenibile a Ecomollo 2014. Seconda giornata di fiera, seconda giornata di manifestazione e cominciamo la giornata, come ormai nostra abitudine più che tradizione, con la rassegna stampa. Una rassegna stampa, bisogna dire, questa mattina un po' avana di notizie per quanto riguarda le tematiche ambientali, se non, come vedremo, il tema del rischio idrogeologico e delle alluvioni. Infatti in molte zone d'Italia oggi è allarme meteo, anche qui a Rimini questa mattina siamo svegliati sotto una sottile ma esistente pioggerellina e le acque locali, comunque abbiamo visto i fiumi, i rii eccetera, a un buon livello significativo che quindi a monte l'acqua sta scendendo, sta gonfiando i fiumi e questo giustifica appunto il fatto che in molte zone d'Italia ci sia un allarme maltempo. D'altronde guardiamo il Corriere della Sera, in prima pagina apre proprio sul torrente di Carrara che esonda ogni volta, vediamo l'immagine di un vigile del fuoco che è a bagno in mezzo al fang, all'acqua fangosa. Ma prima di parlare del rischio alluvioni, vediamo proprio dal Corriere della Sera un tema che è molto in linea con gli argomenti della fiera che ci ospita, che è quello della Tari, la famosa tassa sui rifiuti, è stato calcolato che in quattro anni c'è stato un rincaro del 22%. In realtà questa cosa mette in evidenza un fatto che mentre qui si parla di economia circolare, recupero, riuso del rifiuto, riciclo eccetera, cioè un'economia che dal rifiuto lo può trasformare in una ricchezza, in realtà si continua a rincarare una tassa per qualcosa che è completamente e sostanzialmente inutile. Cioè pensate se noi potessimo sviluppare adeguatamente un'economia, ieri se ne parlava per esempio del rapporto Green Italy di Union Camere, più di 70.000 posti di lavoro potrebbero arrivare proprio dal riutilizzo, come dire, virtuoso del rifiuto. In teoria una tassa che potrebbe essere eliminata perché quello che oggi è visto come un costo potrebbe diventare una risorsa. Ma rimanendo sul tema appunto del rifiuto, il resto del Carlino, giornale locale, in pagina 9 riporta l'attenzione su un tema che ieri è stato molto caldo a Rimini, è quello degli inceneritori, della protesta dei sindaci locali, perché come sapete nel decreto sblocca Italia è prevista la possibilità per i comuni virtuosi, cioè quei comuni che hanno una gestione appunto virtuosa del rifiuto, che non hanno una grande quantità e che quindi i loro inceneritori potenzialmente potrebbero ospitare rifiuti di altri comuni, questi altri comuni potrebbero richiederle l'utilizzo. Ed è proprio su questo che ieri hanno chiesto un incontro al Ministro Galletti che era in fiera e che tra l'altro ha visitato anche il nostro spazio di iCasaGreen, hanno avuto questo incontro, il Ministro promette di rivedere la legge, certo è una legge che sarà uno sblocca Italia ma che nel frattempo fa molto molto discutere. Vediamo infatti anche qualche altro tema, va bene anche la stampa in realtà riporta il tema del maltempo, soprattutto il tema di Carrara che in queste ore è stata fortemente colpita, ma ciò che attira la nostra attenzione è anche un aggiornamento su Genova, perché come è fatta il sistema dell'informazione evidentemente si corre, si dimenticano anche le cose accadute pochi giorni fa, tra l'altro in tema delle ricorrenze potremmo dire che due giorni fa soltanto si celebrava la triste data il 4 novembre del 66 dell'alluvione di Firenze. Ma parliamo di quella di Genova che risale a pochissime settimane fa, il governo aveva promesso di spostare il pagamento ma i ritardatari sono sanzionati. Evidentemente che Genova, giustamente titola la stampa, dopo il fango la beffa delle tasse. Se effettivamente era stato promesso un intervento straordinario, l'intervento non è arrivato, dimenticanza, ritardo burocratico, beh certo non è quello che era stato promesso all'indomani agli alluvionati. Vedremo come andrà avanti, evidentemente c'è bisogno di cambiare il passo. E vediamo infine al Sole 24 Ore, che forse oggi è il giornale più ricco, anche grazie all'inserto sui territori, di tematiche ambientali. E proprio sull'inserto imprese e territori c'è un tema caldissimo nel dibattito, che è quello delle trivelle, la Croazia trivella, l'Italia è ferma. L'articolo di Jacopo Giliberto. Jacopo Giliberto è una delle firme più note, più prestigiose dei giornalisti che si occupano di tematiche ambientali. Certo è che la posizione espressa dall'articolo è nel mar Adriatico, dove si vorrebbero fare trivellazioni anche da società italiane, cercare quindi il petrolio, mentre l'Italia ha delle remore, soprattutto perché c'è una paura dei rischi ambientali, se questo non può essere fatto in sicurezza c'è chi sostiene che non debba essere fatto e c'è anche chi sostiene che la sicurezza è irraggiungibile. La Croazia, che forse ha meno scrupoli, invece sta già partendo con le operazioni che arriveranno alla trivellazione, tant'è vero che riporta per esempio le parole della senatrice Simona Vicari, sottosegretaria dello sviluppo economico, che ricorda come l'iniziativa petrolifera intrapesa da tutti i paesi riveraschi, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia, non possono essere ignorate e più in generale quelle del Mediterraneo, perché questi paesi stanno agendo con una decisione per valorizzare le risorse. Insomma, la filosofia generale dell'articolo, ma anche della posizione italiana, è quella di dire, sì, va bene, ma dobbiamo agire su questo, questo è importante. È evidente per chi come noi è in uno spazio come quello di EICASA Green, questo progetto che promuove un modello abitativo ad alta efficienza energetica, che utilizza le fonti rinnovabili, materiali bio e così via, come legno e non solo, beh, certo andare a parlare di nuovo di combustibili fossili fa un po' effetto. E sempre sull'inserto territori, maltempo toscana in ginocchia, anche qui le foto di Carrara sono importanti, ma la cosa che interessa di più è proprio, parlando di rischio idrogeologico, il tema delle assicurazioni, rischio idrogeologico, rischio dissesto, anticalamità, assicurato solo il 2% delle case. L'aria chiede l'obbligo, ma sono poche le polizze per le alluvioni alti, i costi delle zone sismiche. Insomma, c'è necessità perché l'Italia è un paese a rischio idrogeologico, d'altronde prendete una cartina dell'Italia, guardate le montagne, guardate i fiumi, vi rendete conto che questo paese si sviluppa su un territorio molto fragile, che per decenni è stato urbanizzato in maniera sbagliata ed è ovvio che o si interviene, e noi sappiamo che il Ministero ha stimato in circa 40 miliardi i costi per gli interventi, delle opere per evitare il rischio idrogeologico, oppure bisogna partire dal basso. Le assicurazioni sono uno strumento, noi andiamo a valutare quello che è il nostro patrimonio abitativo, la nostra agricoltura, facciamo campagne di assicurazione, lavoriamo con le assicurazioni, rendendolo obbligatorio, è evidente che qualcuno dice c'è un interesse delle lobby assicurative nel chiedere l'obbligatorietà di questo, ma è un'obbligatorietà ormai resa necessaria dagli eventi, come stiamo vedendo in queste ultime ore. È evidente anche in questo che il tema del rischio idrogeologico è quello di un'edilizia green, di un'edilizia che eviti rischi per la salute, che sia comfort abitativo, ma che sia anche giustezza costruttiva, sarebbe una risposta, sarebbe la creazione di quella economia verde e di quel riprendere, perché d'altronde prendete anche dello speciale casa del sole 24 ore, questo ieri ne parlava anche il Corriere della Sera, c'è il crollo del mercato immobiliare, addirittura la seconda casa ormai non tira più, ma perché la gente non ha i soldi, ma anche perché oggi avere case nuove con modelli abitativi obsoleti è qualcosa di sempre meno significativo. Anche una casa con criteri vecchi, che ancora utilizzi calce e mattoni di vecchia generazione, perché non è detto che sia soltanto il legno la soluzione, ci sono tantissimi materiali, tecniche costruttive, eccetera, beh, ovviamente ha un valore minore e soprattutto ha una durabilità minore nel tempo. Questo è un po' quello che c'è sui giornali di oggi, noi continueremo invece a raccontarvi con gli ospiti le storie delle imprese, i protagonisti, i professionisti, esperti, quella che è la nostra idea di iCasaGreen. Ricordo, questo spazio voluto e immaginato da energia e energiane che vede Tecneco come partner mediatico, organizziamo appunto approfondimenti, incontri, dibattiti, tavole rotonde che trasmettiamo in diretta sul nostro streaming su www.tecneco.it e che potete rivedere tutto con calma sul nostro canale YouTube e niente, io a questo punto non rimane che salutarvi e darvi appuntamento fra pochi minuti con le nostre dirette. Grazie e buona giornata.